Storia del Carengione Il Carengione è un'area di interesse naturalistico di circa 140 ettari che si trova nel territorio di Peschiera Borromeo, tra le frazioni di Betola, Mezzate e Sambodio, caratterizzata dalla presenza di fasce boscate. Il nome deriva dal carice, che è una pianta palustre tipica delle zone umide. La sua storia risale ai tempi antichi. Vi sono cartine geografiche del 1600, 1650 e 1750, in cui sono disegnati dei piccoli alberelli, che indicano la presenza di aree boscate nell'est milanese. In tempi più recenti, nella plena metà del Novecento, causa delle due guerre mondiali, l'aria ha subito un forte disboscamento. Per l'utilizzo di legna da ardere, negli anni Sessanta una società di cavatori iniziò l'attività di estrazione sabbia e ghiaia, ma dopo un anno il progetto fu abbandonato. Nei decenni successivi, nelle aree perlustrate dalle scavatrici, si è insiedata una ricca vegetazione e gli avvalamenti creati dagli scavi si presentano oggi come dei piccoli stagni inondati di acqua di falda. Nel 1984 il comune di Peschiera Borromeo lo tutela dichiarandolo non edificabile, evitando il transito di mezzi motorizzati. Nel 2000 il Parco Agricolo su Milano ha acquistato 10 ettari di terreno, piantumando qualche migliaio di alberi. Attualmente il carengione è divenuto parco naturale ed è iniziato un percorso di riqualificazione. Grazie a tutti i nostri spettatori